Ciao da Gabriele e benvenuto sul canale di Staticalmo, che si rivolge ad imprenditori e dirigenti. In questo canale troverai contenuti pratici di statistica applicabili a vari contesti aziendali o di organizzazioni no profit. La teoria sta ridotta all'osso perché appunto qui trovi casi reali, ossia richieste di terzi o progetti ricerche personali. Questo canale non si rivolge solo ad imprenditori e dirigenti, ma a cittadini curiosi che tramite i miei video potranno apprendere nozioni e competenze di ciò che in Inghilterra e negli Stati Uniti chiamano la scienza dei cittadini. Potrà succedere che analizzo gli stessi dati in maniera diversa a distanza di mesi, questo perché magari in quel periodo ho letto qualcosa che mi ha aggiornato in termini di metodologia. Perché della statistica, ma non solo, mi piace che si aggiorna continuamente, di sicuro meno rispetto ad altri ambiti, ad esempio l'informatica, ma comunque se una persona segue blog, newsletter o altri tipi di contenuti, sicuramente nel corso dei mesi troverà spunti di aggiornamento. Se hai richieste di contenuti specifici, me lo puoi far presente tramite commento nel video che ti ha ispirato alla richiesta. Nel caso di richieste generiche di contenuto ti invito a farlo presente sulla pagina contatti di www.staticalmo.com Concludendo mi auguro che troverai fruibili i contenuti che ho prodotto, che produco e che produrrò. Produrrò